Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, torno all'episodio sulle top farm della settimana nel quale però vi voglio anche parlare di qualche progetto che mi avevate richiesto in tanti in realtà soprattutto nelle live, quindi nei commenti, e si tratta di OVR, quindi me lo sono un po' approfondito ho visto anche tutta l'intervista che ha fatto Monti con il CEO che è tra l'altro italiano e quindi ve ne voglio parlare per qualche minuto in modo tale che possa darvi il mio punto di vista e poi alla fine del video passiamo a vedere altri due progetti particolarmente interessanti per invece rendite più su stablecoin quindi classico appuntamento da top farm della settimana Ragazzi vi rubo pochissimi secondi per parlarvi di PrimeXBT, una piattaforma per fare trading di crypto Nokia YC e 0.05% di commissioni sui trade alle quali potete aggiungere un ulteriore 25% se utilizzate CryptoITA25 come codice più il mio reflink in descrizione Buon proseguimento del video Partiamo quindi subito col dire che cosa è OVR perché è vero, è un progetto legato al mondo del metaverso ma attenzione perché è diverso dai più classici e i più famosi come The Central Land e The Sandbox che sono per lo più realtà virtuale quindi entriamo proprio in un mondo che è completamente distaccato e diverso da quello che è il mondo reale è un po' come se stessimo entrando in un videogioco dove tutta l'ambientazione è completamente fantastica e soprattutto diversa al contrario OVR è basato sul concetto di realtà aumentata quindi la cosiddetta AR il concetto può anche essere visto come mixed reality quindi dare alla realtà che ci circonda delle qualità in più proprio per mezzo di strumenti come il nostro telefono in particolar modo dopo vi farò vedere che esiste già l'applicazione tra l'altro è completamente gratuita quindi vi dovete solo registrare come se vi registraste ad un gioco normalissimo dopo vi metto anche qualche piccolo spezzone di me che sperimento un po' questa applicazione qui vi dico io ho la versione per iPhone ma ovviamente è disponibile anche per Android lo vedete qui direttamente sul sito lo scopo di OVR qual è chiaramente perché ogni progetto nasce con un scopo ben preciso dunque a differenza dei classici The Sandbox e The Central Land che comunque sono per lo più legati al settore gaming almeno inizialmente anche se poi anche loro hanno delle espansioni sicuramente in altri ambiti OVR è più legato a una serie di mondi diversi che può essere sia il gaming che è il mondo dell'intrattenimento e perché no magari anche il mondo del lavoro visto che comunque non è mondo virtuale però è mixed reality quindi magari io posso fare delle videoconferenze insomma tutto ciò che può essere un po' immaginato c'è un limite, un limite anche molto forte in questo momento che è dettato dall'hardware perché dopo come vi farò vedere il telefono non offre tutti i vantaggi che potrebbero offrire strumenti come un visore di realtà aumentata o degli occhiali insomma tutto hardware che in questo momento manca sul mercato e che certamente l'ingresso di un gigante come Meta nell'industria potrebbe invece velocizzare visto che il fatto è che questi hardware costano tanto ma nel momento in cui i giganti dal calibro appunto di Meta entrano nel settore magari si dedicano anche allo sviluppo di hardware di questo tipo potrebbero diventare più accessibili a chiunque chiaramente ampliare notevolmente le funzionalità di un progetto del genere perché vi farò vedere dopo al momento è sicuramente interessante sperimentarlo poi vi ripeto essendo tutto gratuito non è praticamente necessario spendere soldi per testarlo anzi può essere anche curioso e interessante da fare però vi ripeto le esperienze sono piuttosto limitate almeno quelle che ho vissuto io e che vi posso raccontare come tutti i buoni progetti di Metaverse che si rispettano anche OVR ha scomposto tutto il mondo in delle land che vengono definite OVR land in questo momento sono state vendute lo vediamo qui oltre 769.000 land e in questo momento ce ne sono 1784 che sono ad oggi aperte quindi disponibili da comprare tra l'altro questa mappa può essere aperta e potete andare in giro per il mondo a vedere quali sono quelle comprabili tra l'altro sono una sorta di esagono cioè queste land sono esagonali non sono quadrate e si comprano andandole a pagare con il token OVR che è il token principale di questo Metaverse molto analogo ai classici SEND o MANA per The Central Land ok quindi c'è il token proprietario della piattaforma tra l'altro può essere messo in staking magari dopo lo andiamo anche a vedere e infine le land si comprano per l'appunto proprio con OVR tra l'altro per quanto riguarda il token che qui mi sono aperto anche su CoinGecko per darci un attimo market cap 50 milioni di dollari circolante da 28 milioni con una total supply da 110 e è disponibile nei principali exchange principalmente quindi ok anche su Uniswap ma se non sbaglio c'è anche su Coinbase sebbene non risulti qua tra i primi più importanti c'è MaxC che è comunque importante Gate.io chiaramente cosa si può fare con la propria land dunque esiste già in fase beta quantomeno la possibilità di creare dei contenuti 3D vi dico personalmente non ho sperimentato questa possibilità e devo dirvi che comunque prende molta ispirazione dei classici progetti metaverse quindi anche su The Sandbox hai la possibilità di modellare qualche cosa sulla propria sulla propria sand o sulla propria land di The Central Land e il senso è sempre quello che con la propria land o uno la utilizza oppure la può anche noleggiare affittare ed eventualmente la usano altri però qui stiamo parlando comunque di qualcosa più avanti nel tempo cioè in questo momento quasi tutti i progetti di metaverse e OVR è incluso è ancora in una fase molto primordiale almeno a mio avviso perché vi ripeto io ho provato le esperienze e non sono un granché cioè in questo momento non mi verrebbe mai l'idea di dire ma sai che c'è questa sera me ne sto un pochino nel metaverse di OVR un po' legato al fatto che ancora l'hardware è molto limitante anche perché vedremo che è vero ti puoi spostare anche senza doverti muovere per forza però è un pochino scomodo ancora le cose non sono molto comode lato utente questo ovviamente ne disincentiva l'utilizzo e poi come vi dicevo il telefono è comunque piccolino e non riusciamo a immergerci per davvero nella realtà aumentata ecco come vi dicevo prima c'è la possibilità di mettere in staking il token OVR per guadagnare sostanzialmente degli APY qui c'è a partire da un 3,7% senza lock up fino a un 33,9 con 12 mesi di lock up qui molto simile anche ad altre tipologie di token dove più vai a lockare il token e più anche l'APY ovviamente è alto vi dico subito che il progetto è nato su Ethereum quindi sfrutta Ethereum per salvare gli NFT ovviamente però tutti i dati che invece vengono utilizzati per salvare le varie informazioni sopra le land ciò che viene costruito sopra le land viene salvato su un network IPFS quindi è comunque uno storage decentralizzato e infatti lo staking di OVR oltre a disincentivare la vendita serve anche per andare invece a incentivare coloro che tengono attivo e tengono in piedi questa nodi questa rete di nodi IPFS che serve proprio per mantenere le informazioni che sono distaccate dagli NFT quindi gli NFT sono sulla blockchain ma poi tutte le informazioni al di sopra sono salvate in questi nodi storage su IPFS ecco per capire come comprare una land ma comunque è estremamente semplice uno va nel marketplace qua c'è il mondo uno potrebbe anche andare a cercarsela dove vuole se no va giù che ci sono quelle che stanno per scadere se seleziona uno si vede dove questa land è in particolare qui siamo in Spagna e poi qua giù vedete che in questo momento c'è una bid di 5,28 OVR che è comunque 5,28 per 1,82 insomma non superiamo i 15 dollari quindi non è tantissimo e nel caso in cui si volesse comprare si deve fare un ordine quindi place bid questa bid durerà 24 ore se nelle 24 ore nessun altro fa una bid più alta allora diventerà di vostra proprietà la cosa interessante è che adesso il progetto si sta quasi completamente spostando su Polygon il che ovviamente è molto molto comodo per tutti coloro che non vogliono spendere le fee di Tyrium infatti sta proprio avvenendo una migrazione e fra qualche mese il progetto sarà completamente su Polygon e quindi con tutti i vantaggi legati alle fee quindi già adesso in questo momento qui c'è l'articolo che ne parla è possibile proprio andare a mintare le land che sono degli NFT direttamente su Polygon un'altra cosa interessante è che anche questo progetto fa dei buyback and burn del loro token utilizzando il 40% degli OVR realizzati dalle vendite delle OVR land chiaramente quindi questo è un incentivo per tutti i detentori delle land e ovviamente anche dei token OVR tra l'altro stanno per lanciare una cosa interessante che si chiama Map to Earn quindi nel caso particolare di cosa si tratta in sostanza la cosa consisterà nell'andare a mappare proprio attraverso il proprio telefono quindi senza bisogno di avere dei hardware appositi i LiDAR o le macchine di Google ma andare a fotografare le varie land quindi è una cosa che si distribuirà lungo tutta la community e in cambio di questo si verrà ricompensati chiaramente con degli OVR oltre che degli NFT veri e propri magari qui se siete più interessati vi lascio anche questo articolo in descrizione comunque lo trovate tutto 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 sul sito ufficiale quindi vi lascio il sito ufficiale in descrizione in modo tale che voi possiate andare ad informarvi di più e ancora non è attiva quindi è inutile che adesso andate subito provare a fare foto chissà per dove perché non potrete farlo come funzionerà in sostanza almeno da quello che io ho capito si potrà andare a fotografare queste land in modo tale che si possa fare una sorta di ricostruzione tridimensionale poi ovviamente lato software verrà fatta questa ricostruzione che permetterà anche una geolocalizzazione molto più precisa e sarà possibile sfruttare quindi le land anche in maniera molto molto più efficiente quindi interessante questa cosa dal mio punto di vista magari adesso vi faccio vedere qualche video di quelli di cui vi parlavo prima tra l'altro quindi nel primo sono io che sostanzialmente provo a girare per casa o comunque sul balcone per farvi vedere un po' qual è la vista ma ovviamente qui ci sono delle land ma sopra di esse non è costruito nulla e quindi non si vede non si percepisce nulla di diverso in realtà e poi è possibile però già provare sperimentare delle esperienze quindi teletrasportandosi tra virgolette in delle land dove invece è già presente qualche cosa vi dico è interessante è anche figo però l'esperienza d'uso è ancora un po' macchinosa e soprattutto sembra quasi un po' a vuoto cioè non c'è una reale esperienza a parte il vedersi la casa che si trasforma in completamente qualcosa di diverso però ripeto oltre a ciò secondo me ancora manca un po' prima di diventare qualcosa che le persone fanno di spontanea volontà piuttosto che di sola curiosità questo è un po' il mio parere quindi spero di avervi sintetizzato un po' il tutto vi lascio il sito se siete curiosi magari fatemi sapere se anche voi l'avete già sperimentato cosa ne pensate qua sotto nei commenti io come al solito sono molto molto curioso di sconoscere il vostro pensiero passiamo adesso invece ragazzi alla solita parte più focus sulle varie farm me ne interessavano giusto qualcuna non ve ne voglio dare troppe per sconfondervi tantissimo l'idea ma proprio qualcuna più specifica in particolare qua siamo su blockchain avalanche e questo è l'exchange pangolin è interessante questa pool ust ustc che quindi è chiaramente di stablecoin con un tvl di 30 milioni che non è pochissimo quindi ha già un buon tvl che rende un 20% di apr la cosa interessante è che è pagato in token di pangolin che è questo qui luna e avax quindi estremamente interessante perché si riceve pagamento non solo in un token che magari può non piacere ma anche nei token principali anzi nelle coin principali rispettivamente di avalanche e di luna quindi molto molto interessante poi la pr20% comunque non è per niente basso un protocollo interessante che ho trovato su solana è soluna vi anticipo che è un protocollo molto molto recente non ha ancora un audit quindi sicuramente bisogna utilizzarlo con molta molta più attenzione personalmente non l'ho ancora sperimentato in realtà ve ne voglio parlare perché ho trovato comunque dei thread interessanti che ne parlavano mi sono letto un po' la documentazione e mi sembra che può essere interessante quantomeno approfondirlo in sostanza qual è il senso il senso è un collegamento tra solana e terra per quanto riguarda ust nel caso particolare ovviamente come funziona allora è come se sol ust fosse una rappresentazione di ust su blockchain terra però messi direttamente a rendita su anchor protocol quindi sono degli interest bearing token ma che sol ust in realtà non aumenta nel tempo come a ust il classico interest bearing token che si riceve dopo aver depositato su anchor bensì l'interesse di questi token che in realtà sotto con la blockchain di terra viene dato alla dao la dao ha un token che è per l'appunto sol una e sol una può essere messo in lock diventa ve sol una e con questo token qui si riescono a ricevere le ricompense e le reward pagate sempre in sol ust questo è stato fatto in modo che sol ust non fosse un interest bearing token e potesse essere accoppiato con le varie stable coin senza avere problemi di tipo in permanent loss o vari vi dico la realtà non so quanto sia utile perché a questo punto perché non usare direttamente anchor protocol anche perché c'è una piccola fee che ovviamente viene trattenuta quindi come al solito bisogna sempre porsi prima la domanda a che cosa mi serve a tutti gli effetti potrebbe non avere tutta questa grande utilità anzi ancora se devo essere onesto non ci trovo un'utilità enorme una cosa interessante perché su saber quindi la mm di solana c'è già una pool adesso la prendo anche che è questa qui sol ust quindi senza in permanent loss ovviamente almeno in livello teorico che ha un tvl più o meno di 10,3 milioni e rende circa un 35-38% pagato chiaramente nel token saber è ovvio che più il tvl aumenta e più anche l'epy si abbasserà in questo momento era sicuramente interessante ecco giusto per darvi il mio parere su questo poi non so a tutti gli effetti quanto sarà utile personalmente faccio ancora un po' fatica a trovare nell'utilità quanto meno era interessante approfondirla attenzione perché il problema principale a mio avviso resta è il fatto che in questo momento non è ancora auditato il progetto e questo vorrebbe dire che avere sol ust non garantisce la stessa sicurezza che detenere banalmente ust ok questo è un po' il fulcro del discorso e poi soprattutto ragazzi ho approfondito protofai che probabilmente ve ne avevate parlato anche voi stessi sempre in live ed è un protocollo che trovo interessante innanzitutto ha un audit sia di certic che di ragdok anche se ragdok non fa degli audit da diciamo dei commenti l'unico punto debole se vogliamo è che il masterchef non ha un time lock qui dovremmo scendere un pochino nel tecnico ma adesso non voglio addentrarmi troppo magari qui ne ho già parlato in qualche live o comunque potete sempre domandarmelo se proprio non avete idea di cosa voglia dire questo quali siano i rischi di questo tipo di dettaglio ad ogni modo gli APY sono altissimi ragazzi cioè MyUSDT che comunque è una pool di stablecoin e rende l'82% attenzione perché comunque il TVL non è bassissimo non sarà altissimo ma sono già 7 milioni e 3 c'è comunque una deposit fee del 0,5% non è sicuramente tanto però più o meno la si recupera in due giorni e mezzo diciamo tre per abbondare quindi i primi tre giorni servono solamente per rientrare nella deposit fee che viene tolta invece al momento del deposito quello che si guadagna ovviamente è il token proto che è uno dei due token della piattaforma infatti la piattaforma ha due token proto e electro dove in realtà il vero token la share delle fee è electro che però non può essere acquistato bensì praticamente si guadagna andando a mettere in farm determinate tipi di pool che non sono queste qui a mio avviso comunque è interessante tra l'altro in pochissimo tempo ha scalato la classifica su defayama adesso mi pare che sia il quindicesimo protocollo su phantom questo è il suo tvl vedete che un mese fa ma neanche tre settimane fa aveva 21 milioni di tvl adesso ha oltre 225 milioni quindi davvero davvero tanto questo questo qui è l'audit di certic che vi dicevo prima e quindi in sostanza avevano rilevato queste problematiche quindi zero critiche zero major solo 4 medium che a quanto stanno che comunque vediamo qui sono state tutte risolte quindi questo quantomeno ci può dare un segnale sicuramente di positività della piattaforma poi è inutile ripeterlo nella defy anche un audit vuol dire fino a un certo punto abbiamo già visto nella storia che sono esistite piattaforme con audit che in un modo o nell'altro sono state achirate o da insider o da non insider ma purtroppo questo è già successo ecco oltre a queste tra l'altro non è solo myosdt ad avere ipy alti anche mydai 76% myosdc cioè ha proprio delle ipy piuttosto piuttosto importanti tra l'altro io penso che un altro dato importante è che reward lockup non c'è quindi non c'è bisogno di dover aspettare per fare l'harvest delle ricompense ed eventualmente anche venderlo l'unica paura che ho è l'eventuale dump del token proto qualora questi ipy troppo alti incominciassero a scaturire un'importante pressione di vendita sul token quindi è sicuramente un ipy molto molto alto può essere sfruttato magari in questo momento è ovvio che è fortemente dipendente dal prezzo stesso del token detto questo ragazzi io sono felice che voi siete arrivati fino a qui come sempre vi ricordo di lasciare un bel like per supportare il mio lavoro e noi come sempre ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ragazzi ciao a tutti